Ciao amici, oggi parteciperemo al rilascio di una tartarola in mare. Siamo nell'incantevole cornice della riviera del Conero, in compagnia dei traghettatori del Conero e della fondazione Cetacea di Viccione. L'esperienza avverrà in una delle baie più belle di tutto l'Adriatico, la spiaggia delle due sorelle. Per partecipare al Tartaday, occorre prima di tutto prenotare. Trovi il link in descrizione. Partecipando al rilascio, si contribuisce ad aiutare e curare altre tartarughe in difficoltà. Metà incasso, infatti, viene devoluto alla fondazione. Per conoscere il calendario dei rilasci, clicca nel link in descrizione. Il programma prevede la partenza dal porto di Numana. Occorre arrivare almeno 30 minuti prima, presentandosi in biglietteria per prendere il biglietto prenotato. Ci imbarchiamo e si parte. La navigazione dura circa mezz'ora e prevede un giro panoramico su gran parte della riviera del Conero. Lo spettacolo è incantevole. Si vede il Conero e le sue spiagge da un punto di vista diverso, che lascia a bocca aperta. L'acqua è cristallina e si passa da zone di blu profondo al verde smeraldo. Sullo sfondo, le rocce bianche si tuffano a strapiombo nel limpido mare, intervallate da piccole spiagge, baglie e calette. Durante la traversata vediamo gran parte delle spiagge del Conero. e salendo passiamo davanti alla spiaggia di Numana Alta, la spiaggia del Frate o Sottosanta, i Lavi, la spiaggia Rubani, San Michele, i Sassi Neri. Passiamo davanti alla spiaggia delle Due Sorelle, Cava d'Avanzali, la spiaggia dei Gabbiani, la spiaggia dei Forni e infine quella dei Sassi Bianchi. Sullo sfondo vediamo il caratteristico scoglio della vela di Porto Novo. Torniamo indietro fino a raggiungere uno dei simboli delle Marche, la spiaggia delle Due Sorelle, dove vivremo questa bella esperienza. Sia l'andata che il ritorno veniamo intrattenuti dai ragazzi della Fondazione, che ci danno informazioni sul rilascio, e dallo spumeggiante Alain Delon, l'uomo che parla ai gabbiani, che ci racconta poesie, divertenti aneddoti e storie, come un vero showman. Approdiamo alla spiaggia delle Due Sorelle, una delle baglie più belle dell'Adriatico. L'acqua è limpida e cristallina, le immagini parlano da sole. Ci mettiamo in semicerchio, con al centro la protagonista della giornata, la tartaruga. E finalmente è arrivato il momento del rilascio. L'acqua, iscrivetevi al mio Corso, in boschi decenni. La mia domanda è che è la natura. Per avere la situazione della giornata, comunque è la situazione della giornata. salutiamo la tartaruga che prende il largo e noi abbiamo un'ora circa per farci un bel bagno il tartaruga è un'esperienza che consigliamo a tutti sia per vivere l'emozionante rilascio di una tartaruga che per ammirare le bellezze del conero e godersi la spiaggia delle due sorelle se ti è piaciuto questo video lascia un mi piace seguici per scoprire le bellezze delle marche attiva la campanellina per essere aggiornato sui nuovi video a Marche.it a Marche 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 a Marche